Slitta settembre la sentenza sulla bancarotta di Banca Etruria, manca infatti il tempo necessario per emettere il verdetto entro luglio. Ieri un nuovo passaggio in aula per il processo relativo al crack dell'istituto di credito a retino. È stato nuovamente il turno dell'ex direttore generale Luca Bronchi, uno dei quattro imputati che ha optato per il rito abbreviato. Assieme all'ex presidente Giuseppe Fornasari, all'ex vicepresidente Alfredo Berni e all'ex consigliere Rossano Soldini. Bronchi in aula ha affrontato il penultimo tema della sua difesa, quello della liquidazione da 1,2 milioni 700 mila euro netti che la banca gli concesse dopo la rottura del rapporto con l'ultimo presidente Lorenzo Rosi e il consiglio di amministrazione. Non c'è stato però tempo per l'accusa di fare l'interrogatorio che è slittato così al prossimo 11 luglio. Il processo per rito abbreviato andrà dunque avanti sino a settembre. Nella prossima udienza, prima del controinterrogatorio DPM, Bronchi affronterà l'ultimo capo di imputazione a lui contestato, quello relativo ai finanziamenti a intermedia Società del Finanziere Giovanni Consorte.